Spero che sia un bel viaggio e mi auguro di poter lasciare un segno nell'azienda Marche Nord durante questo mio nuovo percorso. Ha un curriculum di tutto rispetto, il direttore sanitario Alberto Deales, che questa mattina si è presentato alla stampa nella sala riunioni della direzione generale a Pesaro. Deales, che subentra a Maria Teresa Montella, ha ringraziato il direttore generale Aldoricci per la fiducia e la stima che ha dimostrato nei suoi confronti, affidandogli questo incarico che ha accettato sia per motivi professionali che affettivi con il territorio. Mi hanno spinto la condivisione del progetto che si sta portando avanti, la conoscenza e la stima per il dottor Ricci e per chi mi ha preceduto, la dottoressa Montella. Mi ha convinto anche il fatto che io ho un legame affettivo con questo territorio perché ho lavorato in questa azienda per molti anni e ho vissuto da cittadino della città di Fano per più di dieci anni, quindi ho anche un legame affettivo con questo territorio e con queste città. Quali sono, secondo lei, i punti che potrebbero essere migliorati? Ha parlato anche di un confronto con altre realtà. Credo che portare anche questi scambi, questi partnership con alcune realtà molto avanzate, per esempio nella gestione del rischio clinico piuttosto che nell'organizzazione dei percorsi, sia un'opportunità e che io cercherò di concretizzare per questa azienda. Il direttore generale Aldo Ricci ha ribadito che entro l'anno verranno nominati direttori di farmacia, geriatria, riabilitazione e ortopedia, ma ha specificato anche che le assunzioni verranno fatte con criterio, scegliendo i professionisti di cui hanno bisogno. Ha spiegato inoltre i motivi per i quali è stato scelto il dottor Deales, cioè per le sue capacità umane e per l'ampia esperienza in regione in Asur, dove ha portato avanti, insieme ai vertici di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere, le reti cliniche. È stato inoltre uno dei protagonisti della pianificazione e programmazione della riorganizzazione marchigiana. Ricci, nell'accogliere il mio direttore sanitario, ha ringraziato in modo particolare la dottoressa Montella per il percorso e il lavoro svolto nell'azienda. La dottoressa Montella, oltre che un grande professionista, un'amica con cui collaboro da più di 30 anni, mi ha dato una grossa mano nel venire a lavorare qui a Marche Nord. La sua opera è stata tangibile, ha avuto un ottimo rapporto con i professionisti, purtroppo per ragioni familiari ha dovuto abbandonare con grande dispiacere, però non si può fare meno di riconoscere il percorso delle persone, quello che hanno fatto e il segno che hanno lasciato in ognuno di noi.